Smettiamo di fare Robertario. No, 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 non smettiamo. Questa è la mia proposta. Comunque c'è una signora che dice, giustamente ha scritto, volevo comunicare la mia gioia per il Genoa, fai tu i complimenti al Genoa, falli tu Robby dai. Guarda, tantissimi complimenti anche alla signora che si è ricordata. Perché? Guardate che non lo sa lei. Scusa, perché fai complimenti al Genoa? Perché il Genoa questa adesso, proprio adesso, matematicamente. Ma adesso oggi lunedì? Sì, no, questo weekend. Grazie a Gilardino. Sì. È tornata. È tornata a far. A fare cose. Sognare. Sì, quindi è tornata. No, non ci credo che ti ho detto il verbo giusto. È tornata da dove dove stava prima, cioè. In trasferta. Sarà tornata la trasferta. Io vi giuro su Dio, non lo fa apposta. Dove è tornato il Genoa? Dove è sempre stata nella storia una delle squadre storiche del campionato? In Liguria. Ma sì che è tornata in Liguria, non sarebbe mai andata dalla Liguria. No, ragazzi, non ci sto capendo. È tornata dalla serie. Dalla serie. Ma è venuta in A? Sì, come il Frosinone. Ma cari, che bravi. Abbiamo fatto i completi al Frosinone e li facciamo anche al Genoa. Grazie.